Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Il tono dell'umore è soggetto a delle fisiologiche fluttuazioni che sono presenti anche in condizioni di benessere. Non dobbiamo quindi cercare di evitare a tutti i costi i sentimenti di tristezza o di paura, perché nella vita di tutti i giorni sperimentare anche questi sentimenti è completamente normale. Grazie